buongiorno a tutti un breve aggiornamento sul mercato azionario italiano questa mattina 18 marzo il tema principale sulle big up sono i flussi sul settore bancario se scorriamo la barra dei titoli qua sulla sinistra notiamo che ubibanca unicredito anche unipossai quindi settore finanziario assieme ad altri titoli come anche intesa b per banco bpm sono tutti caratterizzati da un attività particolare questa attività particolare la vediamo vedete con un numero dei tre di più elevato rispetto alla media storica e poi associata dei flussi in acquisto che sono predominanti questo pattern lo riscontriamo sul popolare di milano è confermato sulla banca popolare dell'emilia romagna con un aumento importante del numero di scambi dalle 9 e 40 possiamo anche riscontrarlo se andiamo a vedere per esempio medio banca abbiamo medio banca un numero dei trade sicuramente superiore alla media con un controvalore nei 30 minuti sicuramente sopra la media e questo è legato al fatto che ci siano stati dei compratori adesso questi compratori sono stati molto frequenti nella prima parte della seduta si stanno un pochino affievolendo negli ultimi negli ultimi minuti sempre rimanendo sul settore bancario vediamo ubibanca lo stesso compratore su ubibanca con un aumento significativo nel numero dei trade rispetto alla media storica e vediamo anche unicredit unicredit guardate quanto siano elevati gli scambi rispetto alla media storica dell'ultimo mese anche in termini di controvalore anche se possiamo dire che è il compratore importante ha terminato alle 10 adesso il controvalore sta un po venendo meno quindi questa cosa va sicuramente seguita e per quanto riguarda la incisività degli acquisti vedete c'è stata una netta supremazia degli acquisti rispetto alle vendite di nuovo fino alle 10 poi è andato un po ad equilibrarsi la situazione quindi sicuramente flussi in acquisto sul settore bancario questa mattina in italia standoci invece sulle mid cap vi segnalo innanzitutto a una prosecuzione del trend di cui parlavo quindi credem quindi small cap sul settore bancario c'è una certa attività questa mattina credem guardiamo anche cattolica che è un altro titolo del settore finanziario ma poi ci sono acquisti su bs vedete c'è una netta predominanza degli acquisti rispetto alle vendite con un aumento del numero dei trade un altro titolo che da seguire in giornata è sicuramente fincantieri fincantieri ha avuto un aumento importante del numero dei trade nella prima parte della seduta poi scemato adesso sta recuperando con un deciso aumento del di quelli che sono gli acquisti gli acquisti sono molto molto forti sono venuti un pochino meno in questi ultimi 10 minuti ma c'è stato sicuramente un compratore importante sul fincantieri nella prima parte della seduta il sistema a segnale anche era in cui c'è stato un compratore nella prima parte della seduta e un aumento sicuramente del dell'attività aumento anche dell'attività su obs vedete quanto sia importante questo in questa attività di trading oggi però su obs c'è un venditore vedete che sostanzialmente c'è una netta prevalenza degli ordini in vendita rispetto agli ordini in acquisto quindi questo è in sintesi la piccia della situazione odierna ci sono anche altri titoli ma non ve li segnalo altrimenti creo confusione quindi titoli bancari in italia fincantieri in rialzo per quanto riguarda le mid cap e anche obs invece sotto pressione per quanto riguardano le small cap buona giornata a tutti